Ciao! Hai preso tutto per il raffreddore? Sì. Qualcosa per la tosse? Sì. Per il mal di cuore? Sì, e anche per il naso chiuso. E poi mi sento tutto indolanzito. Devo proprio riposare. Ecco qui tutto quello che ti serve. Vicks Midnight. Nient'altro? No, basta Midnight. Vedrai. Ora va meglio, caro. Va meglio. Vicks Midnight allevia i fastidi del raffreddore. Così l'organismo può riposare. Leggere attentamente le avvertenze.